a due mesi dalla fine dell'esperienza al grande fratello l'amicizia tra giuseppe garibaldi e massimiliano varrese è più forte che mai due ex concorrenti del reality show si sono ritrovati a roma e hanno documentato il loro incontro sui social media dimostrando che il legame creato all'interno della casa più spiata d'italia è destinato a durare nel tempo il ritrovamento inaspettato a roma massimiliano varrese ha condiviso una storia su instagram in cui mostra il suo incontro casuale con giuseppe garibaldi mentre passeggiava per le strade di roma io vado in giro per roma a piedi perché mi piace camminare poi a un certo punto guarda su chi sbatto ha detto l'attore spostando la telecamera per inquadrare il sorridente giuseppe due ex gfini si sono poi abbracciati calorosamente dimostrando che la loro amicizia è rimasta salda nonostante il termine del programma una chiacchierata in calabrese dopo l'abbraccio giuseppe garibaldi si è prestato a una simpatica chiacchierata in calabrese con massimiliano varrese che ha documentato il tutto su instagram due hanno scherzato e riso insieme dimostrando di avere un rapporto fatto di stima e rispetto reciproci il gfino calabrese ha anche rivelato di essere a roma per lavoro sottolineando l'importanza di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi amore per beatrice luizzi nelle scorse ore giuseppe garibaldi è tornato sotto i riflettori per aver rivelato di essere preso sentimentalmente da beatrice luizzi ex concorrente del grande fratello con cui ha avuto un flirt all'interno della casa quando lo scorso marzo c'è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché temevo di essere accusato di voler creare una dinamica si sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto non ho più paura di dire che sono innamorato ha dichiarato il gfino un'amicizia solida nonostante le voci di un possibile riavvicinamento con la ex fidanzata giuseppe garibaldi ha dimostrato di avere un'amicizia solida con massimiliano varrese due ex gfini continuano a frequentarsi e a supportarsi a vicenda dimostrando che l'esperienza al grande fratello ha creato legami destinati a durare nel tempo un'avventura indimenticabile amicizia tra giuseppe garibaldi e massimiliano varrese è solo uno dei tanti legami nati all'interno della casa del grande fratello il reality show infatti ha permesso a molti concorrenti di trovare amici per la vita e di vivere un'esperienza indimenticabile nonostante le difficoltà e i momenti di tensione i gfini hanno imparato a conoscersi e a supportarsi a vicenda creando un clima di solidarietà e di sostegno reciproco importanza dei social media social media hanno giocato un ruolo fondamentale nel mantenere vivo il legame tra i concorrenti del grande fratello grazie a instagram twitter e facebook i gfini hanno potuto rimanere in contatto e condividere i momenti più importanti della loro vita con i fan del programma inoltre i social media hanno permesso ai concorrenti di costruire una carriera nel mondo dello spettacolo sfruttando la popolarità acquisita durante il reality show il futuro di giuseppe garibaldi e massimiliano varrese il futuro di giuseppe garibaldi e massimiliano varrese è ancora tutto da scrivere ma i due ex gfini hanno dimostrato di avere le carte in regola per costruire un percorso professionale di successo grazie alla loro determinazione e alla loro voglia di mettersi in gioco i due potrebbero presto diventare dei volti noti del mondo dello spettacolo italiano nel frattempo i fan del grande fratello continuano a seguirli con affetto e a sostenere la loro amicizia nella speranza di vederli presto di nuovo insieme in qualche nuova avventura amicizia oltre il grande fratello amicizia tra giuseppe garibaldi e massimiliano varrese è la dimostrazione che il grande fratello non è solo un reality show ma un'esperienza di vita in grado di creare legami profondi e duraturi due ex gfini hanno dimostrato che l'amicizia può superare ogni difficoltà e ogni distanza e che i rapporti umani sono la cosa più importante nella vita grazie alla loro amicizia giuseppe massimiliano sono diventati un esempio positivo per i giovani che li seguono sui social media dimostrando che l'amicizia è un valore fondamentale da coltivare e da preservare nel tempo grazie addi a acá grazie grazie grazie